Grazie, grazie! Dov'è Matteo? Matteo Bensi? Adesso faccio... Faccio una cosa, ho una richiesta, una richiesta. Quale? Quella che vi ho detto prima lì... Prendi un microfono, un microfono per Matteo, è lì. Posso usare questo? Ah, del maestro, quello... Non mi permetterei mai, effettivamente... Lascia il microfono, Franco, le lascio il microfono. Allora, senti questa. Allora, dategli un microfono. Aiuto, Matteo! Questa è... Questa è... Io ho questa versione, Matteo. Una stornellata, che io vi ricordo che facevate quando eravate insieme a Franco. Eccolo, eccolo! Allora, abbiamo fatto la versione 1 e la versione 2. Io questa sera ho la versione 3. Questa sera io farei la versione 3. No! Comunque vorrei chiederti, se era una cosa sorpresa, come fai ad avere il testo? Perché io ho sempre tu... Matteo, Matteo! Sì! La Mariana è come le sue valigie. Quando parti da casa per andare a fare la spesa, mette sempre tutte le valigie. Perché potrebbe darsi che vada in ferie anche. Esatto! Devi sapere che io qua sotto ho una borsa con dentro tutti i testi possibili, immaginabili. C'è un cappelletti, c'è, che c'ha il suo harem di situazioni. Va! E vai! Allora, noi facciamo questi stornelli per un evento e riutilizzerei quel testo, insomma. Sì, anche perché non... Non te ne... E l'altro non ve lo ricordo. Allora parto io, eh! Ce ne fate sentire le mani, per favore? Su! Su! La canzone popolare è la più bella e per noi italiani è tradizione. Io però lo sai, Mari, che sono di mano, sono di mano di qui. E fai, facci lo tolto. Faccio fatica! Ma sto palco è troppo grande e io mi sento un po' a disagio. Me sento solo... Secondo me ci vuole la Maria Andina. Eccolo lì! Nel mentre che l'orchestra M'accompagna L'amico mio qui ripia piato O ce l'hanno tutti... Senti un po'? Dipi, dipi! Perchè si canto io... E' una cuccagna... Questo è vero, eh! Questo è vero! Te serva di lezione, oh mio Matteo... Hai paguti! Fior di pizza è proprio stretto io mi sento piccoletto... Ho sbagliato le parole! Tranquilla! Amico bello! L'amico muore! Che spettacolo! Che spettacolo! Io farei il nostro finale! perché noi facciamo un finale dove poi uscivamo dal palco e rientravamo e scattava l'applauso adesso io spero dal palco usciamo sicuro l'applauso lo speriamo io partirei da qui qui dagli stornelli ci siamo a me è piaciuto a me è piaciuto a me è piaciuto si vede che è un po' che non li facciamo dai gli stornelli di una volta che la gente sempre ascolta noi li cantiamo e adesso sotto braccio noi ce ne andiamo andiamo esatto buonasera bonasera tutti quanti buonasera tanti tanti buonasera 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 tutti quanti buonasera 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 Matteo, Mariana Mariana Matteo e i ragazzi dell'orchestra grandi grazie che ci avete accompagnati grazie ragazzi io avevo